ciao a tutti se sei minorenne ti chiedo di chiudere il video adesso perché il gioco che vi è dato al minore del 18 può causare dipendenza patologica divertiti a guardare solo i miei video buona visione bentornati signori a questo nuovo video come va tutto bene e signore soprattutto allora oggi voglio provare una bella magnet storica si va di acquisti soft soft la burrof tor mega ways partetta la burrof tor questo è rimasto acquisito acquisti da due perché qua non ci azzecca mai è difficile intanto vi ricordo di iscrivervi al canale anche sui social che è importante trovate giù in basso grazie del vostro supporto a tutti voi e tutti quelli che stanno arrivando adesso si parte grogiamo le dita allacciate le cinture si vola burrof tor tira la frizione mettila a marzo boom 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 guarda La porf Il cinghiale non ce l'ha messo Quando fa tutti i siti a vuoto Guarda Già lo so che è buttato Perso Quella a picciane Quella non poteva stare qua la donna Siamo a per 3 17 giri Siamo lontani Fai cadere un cinghiale qua Bene Il Q Il K Emo se mi paga il Q Arrivano pure i martelli E' solo che non si affilano Non c'è niente Ah no ci sta lei Non l'avevo visto questo falaro Perfetto Dalla in capa a tutta quanta Che hanno un drop Però non c'è capito Non ci stava un bis qua Peccato Peccato Bene Sono parecchie Mega Ways E' solo che paga poco 1100 Madonna Se stai 17 18 per Bene Il primo bonus Serie A 200 euro D'acquisto La chiappa La chiappa C'è Guarda il cinghiale Se stava qua Non vanno tutti buttati No Per 13 9 Ma già pistola Mamma Quante cappe sta Potevano starci là Ok Ci manca questo Il massimo Il baffone Non ci sta Le Q Bene Vai con le Q Quartetta La torre Vada 9 La donna qua Non c'è Peccato Che ci ha lasciato Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo video Lasciatevi un bel commento E tantissimi like Iscrizione al canale Anche i social Che trovate giù in basso Io vi ripeto Che al gioco si perde Questo è un caso di fortuna Che la chiappa Per chi è già giocatore Si assicura Che sta facendo Sussidi legali Che può trovare giù in basso Sbroom Vai mo Lasso al primo Ah bene Lasso al primo Dai Non c'è niente Siamo live Vi faccio vedere Che questo Va buttato Perché Culo Bell'amore De pista Siamo a dicio Madonna Quindi non ho mai visto Tutte queste Queste più 4 Ho mai visti Si riparte Madonna Oggi è chiappa Assicurata E il 10 E dove sta Quando si è caccia Questi qua Reattiva Altri giri Più 4 Partito La move Ruffetar Non c'è Non c'è Non c'è pagamento 9 Tutte le vie Dai Un J È il primo Vai 9 J 10 No Così K Madonna Due cinghiali Qua Mannaggia Bellissimo Cavolo Dai Dobbiamo salire Ok Per 10 Lasso al primo Magari E dai Però Qualcuno a vuoto Si sa Schemi fissi Vai Il wild Buttato Proprio Non c'è niente Guarda Quanti tiri Buttati Tutti i tiri Che mi ha dato Non servono a niente Più 4 Dai Lasso al secondo Il 10 Solo al primo Ce l'aveva messo Martelli Buttati Nemmeno Non leggi Vinci Qua Qua Poi pure Perde Pensa Un po' Pensa Un po' Perché C'è la K C'è la K L'abbiamo Recuperato Bene Con i martelli Con i martelli All'amore De pistola Va benissimo Non me lo sarei mai Creso Pensavo di perdere Ci sta Ci sta qualcosa Bene Nata il 1184 Il cinghiale Benissimo Reviva Continua con i martelli Non si ferma più E partute Signori Siamo là Nell'amore De pistola Non me lo sarei mai Creso Bene La signorina Pagato pure Lei Vai Teniamo gli ultimi Giri Falara De nove Il J Al primo No La Q Non c'è Perfetto Lasciatemi tantissimi like Un bel commento A questo video E cosa ne pensate Dalla power of door E della chiappa Soprattutto Perfetto Ricordo che al gioco Si perde Per chi è già giocatore Assicuro che lo sta facendo Su siti legali Che può trovare giù in basso Non so se vi si piega No Già pistole Stiamo continuando Ancora da duecento Faccio altri tre Accusi Vediamo se tutti Vanno così alla grande Ma non penso Vai Continua Bene Parte Tira la frizione Bene Non entrare Dentro la scretta Tira la frizione Tutta a chiappa E la chiappa La chiappa Mi vuole chiappa Mannaggia quella Chiappa 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 Il martello pneumatico Mamma mia Mi chiamavano martello pneumatico Il cinghiale No la signorina Il cinghiale L'ha schiacciato Siamo a per due Peccato Vada Il nove Non c'è La chiappa Di Siviglia Basquian 33 33 Io sono molto fiducioso Vai Il G qua Il corpo di Satana Satana Non ce ne frega niente Basta che lo recuperiamo Il cinghiale Il cinghiale Vada Il G Lasso Non c'è Il baffone Nemmeno Mannaggia Tittistolo Ah Dai Vai G al primo Il Il capo Chioghero Perso Va bene Non fa niente Lo riprendiamo Vai Almeno 200 Almeno 200 Di recupero Vai Mannaggia Pistola Bene Recuperato Il 10 Perfetto Vai Non ti fermare La chiappa è attiva È finito Partetto Questa è perso Stanno troppe Buche vuote Ci scommetto Chiappa Tira la frizione Alla vesta Vai Che sono tutti Paganti Mamma mia Si riparte Signori Una cosa Mai vista Signori Lasciate Milandissimi Like A questo Video Un bel Commento E iscrivetevi Al canale Che è gratis Grazie Del vostro Del vostro Sopporto Le prete Mannaggia I martelli Pneumatici Ma la data Per due Quello è il problema Genda e 4 Palanados L'accompagnamento Vai Non ha già quel corpo Dai Troppi giri A vuoto Stiamo a per 4 Bene Paga tutti I chiokeri Ma così poco Perché il Moltiplicatore È basso I 10 No Big win 62 Bene Con le Q Remmine Non ci stanno Il cinghiale A primo Bene Nel cinghiale Vai Mannaggia Le pistole Mannaggia La femmina Non è capitata Mo ci volevano I martelli Qua Martello Pneumatico Mannaggia La miseria Mi 9 Recuperato Non ce ne frega Niente Quello Acquistato Vai 14 10 Mannaggia Non c'è Bene La signorina Magari Ci mette 1 e 1 Qua Quelli Martelli Mo ci volevano Due giri I 9 Non ci stanno Questo è andato Vuoto Bene Meglio così Ma il 9 Non c'è Il primo C'è Il primo Non c'è Niente Perfetto Si riparte Vai Toro Toro Questo va perso Troppe scrette Vuote La frizione Funziona Dalla Vesco Vai Col Serenomanda Polini Appiccete La crepazione 4 Vai Mo No Maggio Le Cue Questo è perso Troppe scrette Vuote Vai Vai Mo Porco Zio Ma Puccio La moto Come Bedi Sio Vai 500 Cielo Partetto La povera Fudo Vai Questo è L'ultimo E ce ne andiamo Il Cinghiale Di Siviglia Non ce l'aveva Messo Il 10 Le Mele Signore Vada Il Cinghiale Qua Non c'è Magari Ce lo Mette Dai Mette Il Cinghiale Qua Eh No Bene Siamo Sempre In profit Si Viaggia Siamo Lai Maggio Quante Femmine Buttate No Il C'è C'è Madonna Quei Martelli Quando Passeranno Qua E Qua Quanta Femmine Crepazione Perfetto E Mo Se Questi Non Scorrono Qua I Martelli Se Ne Vanno Mannaggia I Martelli Se Ne Vanno Mo Peccato Martelli Tornate Ancora Dici Giri Si Viaggia Vada Bene E Dai Bene Fa l'arte Tutte Cosa 9 10 Non C'è Niente Bene In Ben Perfetto Perfetto Bene Grazie a tutti.